Che tu sia piccino o grande, Baby Sisters è la location giusta per te! Per festeggiare eventi e compleanni per bambini e adulti, grande sala con aria attrezzata e giochi gonfiabili, il tuo evento personalizzato dal food fino al tipo di intrattenimento, aria disco, videoproiezione, animazione, spettacoli di magia, bolle e ombre sono solo alcuni dei nostri servizi. Lasciati coinvolgere dall'allegria e divertimento con Baby Sisters! Ci troviamo in via Ravanusa 4547 San Giovanni La Punta, Catania. Info e prenotazioni al 346 525 4085.